Signore e signore, ecco voi il mio giocatore della quinta giornata Spring Cup Seccia della Real Tunisiana. Ecco, stiamo per consigliare il premio, ambito da tutti i giocatori. Sono abituato a vincere il Regno e a fare interviste, però io questa volta voglio fare un gesto galante, vorrei condividere il premio con tutta la mia squadra. Mamma mia, che signore! Io e Santo Nicola siamo le individualità che spiccano in mezzo a quest'ottimo collettivo. Si può dire che voi siete i giocatori più forti della squadra? Diciamo che siamo i Gurguff e i Shamaki. Siete anche i più belli della squadra, siete i sciupafemmini della squadra. Cioè, lui ci ha visto solo giocare a pallone, è capitato anche questo. Abbiamo ruolo per la squadra, per lui. Adesso, basta andare a lavare le maglie. Ecco, vedi, questa è... La stappetta Stefano, tra l'altro mezzo... Oh, dovete... Cioè, Massimo, ho fatto un dici gol. Comunque, Massimo, a parte... Diciamo, la vostra presenza, diciamo, si vede che fa salire la Real Tunisiana a un livello superiore. Comunque, Di Maio, un po' in difesa, non è un granché. Di Maio, secondo me, è il miglior difensore del torneo. Lo ribadisco anche oggi, in diretta per tutti gli amanti della SpinCup. Certo, ci giochiamo con l'handicap perché ci abbiamo rosati. Ma questo è un torneo tra amici. Ma devo scrivere un po' di Deustacchio. Deustacchio è un grandissimo difensore. Cioè, non... E poi, ma sai, perché non parla molto. Però comunque io l'ho arbitrato e sarebbe stato forte. Mi manca solo il gol. È molto bravo da tirare da lontano. Ma nella squadra l'oltre. No, ma nella squadra l'oltre. L'unico l'oltre è la SpinCup. Però comunque... Comunque... E te lo vedi, vieni, vieni. Dici qualcosa a questi due... Dici anche tu qualcosa in nostro lontano. Vabbè, lasciamo listare. Stanno giocando bene. Portano la squadra... A chi posso siano amore? Quarti. Quarti, terzi. Non si capisce. Ma diciamo che portiamo anche la macchina. Massimo, è un premio di miei undici gol. Non lo vogliamo dare. Ma perché stai... Chi è quello? Il portandolo di lui. Come Massimo, per concludere, così torniamo tutti a casa. Anche questa volta vorrei fare una dedica molto speciale. Vorrei dedicare questo premio a Marianne e Grazia. I miei due angeli custodi. Ok. Vi faccio le ragazze. Salutiamo Marianne e Grazia. Complimenti, santo Nicola e seccia. Numero 14. Sono i 14 mesi di finanziamento. Ho dato alla cazza. Non provo. Bravo, Paudice. Eh, Paudice. Scusa bene dei Paupace. Complimenti, ragazzi. Complimenti, seccia. Il mio gioco della quinta giornata. Ciao.